Applicare gli elettrodi sul torace. Inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia lampeggiante. Analisi del ritmo cardiaco in corso. Non toccare il paziente. Scarica consigliata. Carica in corso. Allontanarsi dal paziente. Effettuare la scarica adesso. Non toccare il paziente. 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 In l'amore, che c'è il sabonino In l'amore, che c'è il sabonino In l'amore, che c'è il sabonino Ah! Lli Eine nous Grazie a tutti 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 Grazie a tutti